A settembre arrivò l'avviso di sfratto a ottobre la rimozione del chiosco dal molo del porto di Pesero. In mezzo una partecipata mobilitazione cittadina con tanto di mille firme raccolte per scongiurare in vano la chiusura del locale Piada Marina dopo 16 anni appoggiato sul molo del porto di Pesero. Ora il locale decide di riaprire stesso nome ma struttura e luogo completamente diversi. Piada Marina aprirà in Viale Trieste, angolo Viale Zara, laddove fino a pochi mesi fa c'era il pub Sherlock Holmes. Un'apertura prevista per Pasqua dopo il polverone di polemiche che due mesi fa accompagnò la rimozione del chiosco, figlio di una ribaltata interpretazione delle norme di sfruttamento del suolo portuale. Per 16 anni il chiosco è rimasto lì, poi un cambio di direzione alla guardia costiera pesarese ha rilevato l'irregolarità di una concessione demagnale fissa in quell'area concedendo solo la possibilità di ripristinarla come struttura mobile temporanea. Ora si chiude un capitolo, se ne apre un altro non privo di ferite. Ad esempio Stefano Sarti, titolare della concessione, non proseguirà ma ha dato disponibilità ai gestori del locale di proseguire l'attività mantenendo il nome Piada Marina. Insomma il locale volta pagina ma l'attenzione resta alta sulle attività in ambito portuale che convivono con un regolamento con troppe zone grigie.